Nel cuore del bosco c'è un villaggio pieno di spensierati e felici Puffi. E un affabile Puffo particolarmente affascinante. Dalla voce profonda le cui parole sono... Va bene, Puffo narratore, basta così. Oh, d'accordo. Ma non troppo distante. Il perfido stregone Gargamella sta tramando qualcosa di diabolico. Sta creando degli esserini tutti miei. Che mi aiuteranno finalmente a catturare i Puffi. Li chiamerò... I Monelli! Dove siamo? Ha funzionato! Abbastanza. Dalla Sony Pictures Animation. Monelli, all'attacco! Ecco il piano, facciamo diventare Puffette a una Monella come noi. Si divertirà così tanto che non tornerà più indietro. Oh, Mondi, e tenetemi, prego. Tranquilli, Puffetta non sarà mai una Monella. Perché Puffa così piano? Forza! Monella, Monella! Non è divertente! Decisamente no! I Puffi! Due! Puffi! Ragazzi, stavo solo Puffando. Ah, bleh, è un'imitazione fantastica. Cosa! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Grazie a tutti.